Ciao a tutti ragazzi, eccoci qua nel mio secondo video di Clash Royale e dicendo secondo, mi viene un dubbio perché non so se considerare tutto quello che sto facendo su Clash Royale una serie, o se fare solo video a caso di partite che faccio, non lo so, ci devo ancora pensare, sono ancora in dubbio Comunque, eccomi qua ragazzi, sono in Arena 6, a 1889 ho perso un sacco di partite, ho perso 200 punti tipo, solo che... non lo so perché sto provando mazzi, capito? Sto provando mazzi e mi sono comprato anche gli scheletrini almeno li ho fatti al 2, ah ah, allora, che facciamo in questo video? Io sinceramente ho visto molti che fanno partite, cioè giocano fanno delle vittorie, insomma se sentono matta, e fanno il commentary guardano il replay e fanno il commentary, a me sinceramente non piace, preferisco giocare e parlare, insomma, questo qui mi crea molta difficoltà perché mi fa tendere a perdere, non so come dirlo in questo senso qui cioè quando gioco e registro perdo sempre perché sono distratto dal fatto che sto parlando invece di pensare a concentrarmi sulle azioni che devo fare allora ragazzi, questo è un altro mazzo che sto provando, sto continuando a fare mazzi di prova e è tipo, c'ho le due casette e c'ho il cannone, la palla di fuoco, insomma un po' tante carte che... particolari, ecco, mettiamola così ah, mentre il babaleo qui pushava da sto lato, i miei babari sono andati fino sotto alla sua torre e gliel'hanno smaciullata un pochetto, ecco, l'hanno massaggiata un po' questa massaggiata ci sarà utile fra poco perché la useremo per sfasciargli la torre però ci vuole ancora un po' di tempo, insomma, ecco, poi sto stronzo con le bombe che mi dà fastidio guarda, non lo sopporto, let's go mandiamo un gigante in avanscoperta, vediamo lui cosa ci tira addosso un moschettiero, un moschettiero allora, lasciamo morire il gigante, non ce ne fotte un cazzo non ce ne fotte un cazzo, non ce ne fotte, non ce ne fotte beh, sinceramente se il gigante dà un paio di pizzerio mi dispiace, eh eh, bravo il gigante, così si fa, dagli le botte alla torre ok ragazzi, io lascio avanzare il drago e la moschettiera aspetto che vengono avanti e poi gli butto gli ascieri nella faccia non ancora, prima li faccio arrivare sotto torre perché se a me la torre prende un po' di danno, non fotte proprio un cazzo l'importante è non perderla e ti tiro una palla di fuoco, guarda, perché sei stronzo ok, la palla di fuoco ragazzi è una carta di merda fa schifo però in questo mazzo c'è il suo perché ho poche unità anti-aereo, cioè non ho nulla anti-aereo perché ho messo apposta il cannone, il cannone ragazzi fa un DPS allucinante proprio perché fa un che cazzo ho detto, non lo so non può colpire le unità aeree e io devo giocare questi qua, 60 secondi rimasti sì, sto arrivando sempre 10 mana oh cazzo, il Prince non me l'aspettavo giuro, piedi un cannone nella faccia tieni Prince, carica il cannone ok ragazzi, dovrebbe aver consumato gran parte del mana che possiede e io ne approfitto per buttargli un gigante nella faccia vediamo adesso cosa gioca, un draghetto, il draghetto si prende una palla di fuoco nella faccia, non te la leva nessuno boom, grazie al fatto che ha usato tutto il mana per il Prince il mio gigante dovrebbe riuscire a passare liberamente e facciamolo 1-0 ragazzi, mamma mia mamma mia, tattiche imbattibili ragazzi dovete sempre considerare il male dell'avversario non potete fermarvi, sto facendo troppi tutorial devo solo fare, devo giocare non devo fare tutorial mi ero ripromesso che non avrei fatto tutorial sui fight però ci sta insomma quel dragono, vedete ragazzi io quel dragono lo sto proprio ignorando vi faccio, vieni avanti non è un problema, vieni sto proprio, ah, il freeze giuro non me l'aspettavo e piede un zappo nella testa vittoria, vittoria questo stava a 1880, era basso insomma, era facile insomma, una partita abbastanza semplice ho queste casse da aprire sinceramente io volevo fare un paio di spacchettamenti tipo le friceste le ho aperte prima e ho detto va, oggi non riuscirò mai a registrare perché sto ancora con la febbre e invece eccomi qua che registro tutto febbricitante non ho ancora mangiato niente da ieri ho mangiato due crackers ieri sera e due crackers stamattina non ho due perché due crackers di numero quindi un po' un po' situazione un po' così ecco ho un mal di pancia che non avete idea però, insomma riesco comunque a giocare a Clash of Clash Clash Royale qua come cazzo si chiama mh 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 ale l'elisir l'elisir ragazzi quel fregno lì è buono da qualche punto di vista non tutti però io rascio adesso perché ho usato l'elisir guarda voglio proprio fare il rascione anti-elisir quel cosa raga costa 5 di mana ecco non posso c'è dal drago niente never mind rascione fallito però io ammazzo il cannone nemmeno mi sa manco il cannone gli ammazzo dicevo quel cosa costa 5 di mana e quando ha finito di givarti scusate io lo chiamo mana però è elisir dai su abbiate pazienza e quando ha finito di givarti elisir te ne da 8 quindi praticamente vai a guadagnarci 3 elisir e io adesso te lo sfascio perché mi stai sul cazzo vediamo se lo shoto infatti ragazzi stavo notando questa cosa c'è scritto sulle cose tipo le frecce il zap vedete c'è scritto fa danno 154 più 62 il 62 è sui forti cioè sui forti questi qua fa meno danno quindi in teoria io dovrei tirare frecce qui perché altrimenti questo mi sfascia tutto con l'xbow non mi pare il caso e l'xbow a casa praticamente ragazzi la palla di fuoco potrebbe essere in grado di shottare quanto danno fa? no 432 432 metà HP questo coso c'ha circa 1000 HP considerando che c'era a livello 13 una tipo 900 infatti vediamo un po' se lo dirò qui dovrei togliere tipo metà HP vediamo un po' si 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 allora quindi non è considerato come crowed over damage ok e no perché queste cose se non le scopro non le saprò mai capito? si ma hai roto il cazzo con questi xbow eh datteli un po' nella faccia eh? come la vedi? oh che palle che palle basta spararmi contro con l'xbow basta va è stufato è stufato è stufato o non ha stufato ha stufato basta è stufato adesso ti tiro tutto nella faccia ti tiro tutto nella faccia pure pure qui palla di fuoco tutto che è sopravvissuto il draghetto mi pare ovvio che il draghetto sopravvive laser eh ragazzi questa partita è tosta probabilmente non la vincerò mai non la vincerò mai però riesco a reggere almeno credo 20 secondi rimanenti dovrei riuscire a reggere fino alla fine dovrei eh nulla è scritto non lo so tiro un gigante nella faccia non te lo leva nessuno dai gigante vai a prendere quell'xbow ci vuole così tanto veramente avanza su su bravo madonna mi sta per sfascia tutto adesso io tiro pure una doppia baracca qui così è contento mi ha tirato un xbow davanti al gigante questo è un pazzo criminale questo è un pazzo tu sei un pazzo bro vedete il zappo sul drago dai uccidete quel drago però please uccidetelo uccidetelo bravi 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 così si fa così si fa io tiro una palla di fuoco proprio qui e gli ammazzo oddio qui ne ha messi due non l'avevo visto devo tirarla lì la palla di fuoco ma quanti generatori di chakra sta a mettere questo è impazzito questo è un chakra dipendente cannone 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 per te cannone per te pum 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 guarda le torri che sta mettendo questo basta mettere torri sei a luce basta basta non se ne può più 14 secondi alla fine vai gigante vai gigante e mi ha zappato oddio raga 5 secondi alla fine 4 3 vai gigante no ce l'avevo fatta guardate era l'arrasciata finale 15 secondi in più ce l'avrei fatta io odio sta fine del tempo mi da fastidio non lo sopporto ok adesso non mi devo agitare sono male devo stare rilassato tranquillo l'anima degli meglio mortali che te guardi griceto che vuoi no 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 è un demente spammatorri quello l'hai visto anche tu uno ragazzi contro quello di prima avrebbe potuto dire eh ma cambia direzione d'attacco attacca l'altra torre eh però proprio passava con l'xbow raga non potevo lasciarlo passare con l'xbow dai spona sti barbari che devo mettere gli arcieri grazie ok stavo aspettando a mettere gli arcieri oh quanta gente ha tirato giù questo oh boni piano diamoci tutti una calmata eh non mi pare il caso di agitarsi ecco avete visto quanta roba ha tirato giù un attimo per male c'è con le frecce ok va avanti sbabbari fatevi valere attaccate sbabbari eh attacca un cazzo di niente i barbari tirano belle spadinate nella faccia belle belle allora io credo che la tesla sia la cosa che mi dà più fastidio in assoluto in questo mazzo è veramente fastidiosissima ma non un po' fastidiosa iper mega fastidiosa non avete idea mi crea un casino di problemi guardate non fa passare nessun soldadino tutti i mazzi con le tesla mi rovinano e il problema sta poco nel fatto che ormai giocano tutti i mazzi con le tesla e hanno un po' rotto i coglioni in effetti perché non se ne può più non se ne può più palla di fuoco palla di fuoco sei forte bravo palla di fuoco ho ucciso la tesla vi giuro raga non ne sopporto più le tesla giuro non c'è nulla che odio più delle tesla eccolo hog rider hog rider in arrivo e io ti faccio un zappo nei denti ragazzi il zappo mi piace un casino due mana mini stun è veramente simpaticissimo mi piace un botto però fa pochissimo danno il bello di quello spell è il mini stun secondo me che cazzo fa questo dove l'ha mandato sto hog rider ha fatto mirror ha fatto mirror raga non ce l'aveva hog rider ha fatto mirror sto sicuro non ce l'aveva non ce l'aveva l'ha già usato oh quanta gente c'è quanta gente c'è palla di fuoco palla di fuoco pure lui arcieri altro gigante in arrivo vai vai altro gigante altro gigante al volo altro gigante al volo sta tirando tutto lui raga sta tirando di tutto ha fatto mirror sugli arcieri i goblin vai è la vittoria l'assalto finale l'assalto finale l'assalto finale meno 1 a 0 ah è finita oh pretta io non l'avevo visto oh una giant chest tutta meritata signori è triggerata l'agent chest triggerata allora vediamo qui che trovo ci babbari scheletrini ho fatto un cazzo ho fatto un cazzo belle due palle di fuoco belle grazie palle di fuoco mamma mia ragazzi ventirare 208 carte oh mio dio oh mio dio 208 carte e 20 rare ok mi spiace che è arena 6 perché se l'avrei voluto non è vero non mi serviva arena 7 perché arena 7 escono questi ce l'ho già al 5 sinceramente è più che sufficiente al 5 e dai arriviamo a sto poso qui vediamo che cazzo esce fuori mamma mia 1400 goldoni 28 di questi 20 moschettiari dolore 160 barbari ma che cazzo dici ok raga c'ho i barbari 160 ne sono usciti ma che cazzo sta prendendo un coccolone raga mi la faccio 160 barbari ma che cazzo dici non ci è possibile oddio vabbè raga io posso salutare perché è stato un piacerone gioione felicione abbiamo fatto un gigante e ci vediamo in un prossimo video spero vi piaccia come gioca Clash Royale spero che insomma capite insomma dai se vi è un prossimo video lasciate un piaccio e condividete fatemi sapere se volete altri video di Clash Royale lasciate un mi piace che vi è tutto quanto ciao non è bella per voi io sto male non la faccio più